decima undicesima preparazione per luca verdi capitano della polisportiva bucinese una ripartenza in eccellenza quindi una partenza diversa si veramente dieci anni fa quando sono arrivato mi avessero detto che dopo pochi anni ci saremmo ritrovati qui in eccellenza sarebbe stata dura da credere però ci ritroviamo qui e siamo contenti e con la voglia di affrontare sto campionato il mister che ha l'intensità giusta e le idee chiare su quelle che devono essere l'atteggiamento in eccellenza perché cambia molto tra promozione eccellenza sì per noi è un campionato nuovo per molti di noi ma con il mister con i nuovi arrivati ci stanno facendo conoscere il campionato e quindi penso che saremo pronti per questa nuova avventura quale sarà la forza della bucinese secondo luca verdi senti in questi anni la nostra forza oltre all'indiscutibile qualità dei giocatori sono stati qui è stato il gruppo perché veramente qui c'è un gruppo di amici come ho sempre detto e questo ci ha aiutato molto nei momenti difficili anche quest'anno i nuovi arrivati oltre che ha delle grandi doti tecniche che sono conosciuti a tutti chi conosce questi campionati hanno una grande umanità una grande un grande carattere e questo ci aiuterà molto a unirci ancora di più ci saranno quattro derby quale di quattro ti fa più paura andare a san giovanni secondo me è una storia cioè rappresenta la storia perché quando siamo arrivati in seconda categoria sono arrivato io san giovanni era in c1 con l'ambizione andare addirittura in serie b quindi è sempre stata una cosa vederlo lassù come c'è un sogno ora giocarci contro quindi san giovanni sarà quella che più attendi sì 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 senza dubbio perché ci sarà sempre una grande grazie